Stiamo facendo una raccolta di cartoline da inviare al Presidente del Consiglio e al suo governo per far capire, conoscere qual è il problema dei pensionati. Certamente comprendiamo che nel Paese ci sono questioni importantissime a quali va data risposta, prima di tutto la questione del lavoro, però riteniamo che i pensionati che sono una ricchezza per questo Paese. Anche i pensionati dunque hanno qualche richiesta da fare al Premier Renzi che finora non ha parlato nello specifico di provvedimenti nei loro confronti. Dobbiamo capire anche ciò che sono i pensionati, sono i pensionati che oggi vivono con 500 euro al mese e credo che sia impossibile poter affrontare la nostra società, la nostra vita normale con 500 euro al mese. Si è dunque discusso di questo e di molti altri punti che vanno affrontati durante il X Congresso Nazionale della Will Pensionati, svoltosi a Mestre. Sicuramente serve una svolta, anche perché va riconosciuto il grande ruolo che le persone anziane svolgono nel nostro Paese, soprattutto in questo momento di crisi, aiutando anche le famiglie di figli e nipoti. Un valore aggiunto per molte famiglie, ecco perché i pensionati vanno tutelati. E non è tutto. Un'altra emergenza per le persone anziane, ma non solo, per tutte le famiglie, è la tutela delle persone non autosufficienti. Valutiamo che ci sono 3 milioni di persone non autosufficienti in Italia e questo è ormai un grave problema anche per le famiglie che devono assistere queste persone. Quindi serve una legge nazionale e servono finanziamenti certi e non legati alle esigenze delle finanziarie di ogni anno.